Ciao, mi chiamo Raquel, sono spagnola, vengo da Mallorca e studio il restauro nella scuola superiore per la conservazione e il restauro di Roma. Io sono una studentessa che faccio parte del gruppo che restaura i bronchi del monumento. Quello che ho imparato qua rispetto a quello che si può studiare sui libri è che le libri ci danno magari un po' le ditte teoriche di quello che noi ci potremmo trovare, però quando uno studente arriva a Nettuno deve far fronte alle vere problematiche che di solito sono diverse in tutto il monumento, come in questo caso che abbiamo magari le sirene che hanno ricevuto l'acqua hanno dei problemi di conservazione calcare, invece il Nettuno ha tutt'altre problematiche e noi dobbiamo far fronte a queste usando diversi strumenti meccanici e anche quelli chimici. Diciamo che è una sfida, è un imparare ogni giorno, grazie ai nostri docenti ovviamente. Allora di Bologna quello che mi è piaciuto di più è l'atmosfera, tutti i giovani, l'ambiente che c'è, pure l'architettura è una città bellissima, diciamo che mi trasferirei subito, eppure si mangia troppo bene veramente. Siamo tutti molto contenti anche dell'accoglienza dei propri cittadini perché sappiamo che il monumento è molto importante, che è molto adorato dai bolognesi, quindi ci sentiamo molto accolti da loro.